Belen Rodriguez in abito bianco Belen Rodriguez in abito bianco, è lei la sposa più bella di Instagram Bellissima e sensuale, Belen Rodriguez ha colpito il pubblico di Instagram postando una foto in cui appare più elegante che mai, mentre indossa un abito da sposa da favola. . Immediatamente i fan si sono chiesti se ci fossero novità all'orizzonte per la showgirl argentina, ma le loro domande hanno subito ricevuto risposta, si trattavo di un servizio fotografico posato. Belen Rodriguez di nuovo sposa, ma solo su Instagram. . Sono trascorsi ormai quattro anni dal giorno del fatidico sito tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma pochi giorni fa la showgirl argentina ha nuovamente indossato un abito da sposa, apparendo più bella che mai. . La Rodriguez ha sfoggiato un abito della collezione degli abiti da sposa Alessandro Angeluzzi Couture ed è apparsa una venere greca, il suo carisma è emerso da ogni foto tanto che i fan sono letteralmente impazziti, riempiendo la sua bacchetta di like e commenti. . . Una conciatura elegante e raffinata, un make-up leggero e una cascata di pizzi bianchi che hanno morbidamente accarezzato la sua pelle, per lei quasi 250 mila like e migliaia di commenti di apprezzamento da parte del pubblico. . 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